Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti tra Firenze Sud e Firenze Scandici per traffico intenso. Sur Accordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze Impruneta. Sulla Fibili per intervento di ripristino, frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Per lavori chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, lavori notturni di asfaltatura in via Palazzo dei Diavoli. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!